Sanitaria Ortopedia Riva cura la salute dal 1964 La Sanitaria Ortopedia Riva opera nel settore ortopedico sanitario dal 1964 con la collaborazione di un qualificato tecnico ortopedico. È specializzata nella progettazione e realizzazione di plantari personalizzati anche per bambini, per tutte le patologie del piede, dall'anziano allo sportivo, per piedi diabetici o reumatici, utilizzando materiali innovativi. Ai plantari viene associato un vasto assortimento di calzature predisposte, classiche e sportive per bambino, donna e uomo, oltre ad un'ampia gamma di prodotti ortopedici, busti, corsetti semirigidi e rigidi, pancere postoperatorie anche su misura, cinti erniari, reggispalle e collari cervicali. Inoltre effettua la vendita e il noleggio di carrozzine pieghevoli. Sanitaria Ortopedia Riva, professionisti esperti al servizio della salute.